Buongiorno a tutti cari elettronauti, benvenuti in questo nuovo incontro domenicale per riassumere le news elettriche della settimana. Preparatevi perché oggi ci sono notizie che vi sconvolgeranno. Parleremo di grafene, batterie, chilometri, soldi, velocità e tanto altro. Non vi resta che mettervi comodi, io sono Matteo Valenza e benvenuti in questo nuovo video. Prima di cominciare voglio ricordarvi che sarà l'evento di mobilità elettrica organizzato ad Ala in Trentino il 26 settembre prossimo. Il ritrovo è alle ore 10 di mattina e d'intorno alle ore 11 partiranno gli stand tematici. Ci sarà ad esempio il mio amico Christian di Audio Gamma Hi-Fi che vi farà vedere, anzi vi farà sentire, qualche impianto audio. Poi ci sarà una visita in cantina per una degustazione di vini e formaggi locali, poi un pranzo, una garetta con i go-kart e tanto altro. Poi ovviamente per chi parteciperà o vincerà la gara sono previsti anche alcuni premi. Quindi dai che ci sarà da divertirsi e sarà pure un bel momento per stare un pochino insieme. I ragazzi sotto i 12 anni non pagano ed il biglietto parte da 10 euro fino ad un massimo di 20 euro, dipende se volete parcheggiare dentro la pista oppure no. Per tutti gli altri dettagli comunque vi lascio il link in descrizione. Mi raccomando segnalate la vostra partecipazione, io ci sarò e mi farà molto piacere scambiare quattro cacchiere con voi. Tesla ragazzi sta letteralmente tremando. In Cina hanno studiato, testato e prodotto la soluzione tanto attesa che risolverà il problema delle auto elettriche e delle file alle colonnine di ricarica. La soluzione che renderà obsolete tutte le auto elettriche sul mercato fino ad oggi. La soluzione che farà cadere a picco il prezzo di tutte le auto elettriche con la vecchia generazione di batterie. Già, siamo nella cacca, ma però io finché non vedo, non credo. Cominciamo dall'inizio. Nei primi mesi del 2021 GAC ha mostrato una nuova tecnologia delle batterie a ricarica super veloce sfruttando il grafene. E giusto un paio di giorni fa il costruttore cinese ha fatto sapere di aver superato i test di sicurezza più rigorosi, il battery shooting test. E niente ragazzi, le batterie sono già uscite dai laboratori e da settembre entreranno nel mondo reale. E lo faranno a bordo del nuovo SUV elettrico cinese Lion 5, che è stato presentato al Technology Day il 27 luglio scorso. Questa tecnologia di ricarica rapida sarà disponibile in due versioni. Una versione entry level, diciamo la 3C, con un anodo in silicio, capace di caricarsi dallo 0 all'80 in 16 minuti. E' una versione con anodo invece in grafene, il 6C, che si caricherà dallo 0 all'80% in 8 minuti o solo 5 minuti dal 30 all'80%. La batteria con anodo in grafene supporterà circa un milione di chilometri, pari a circa 3 o 4 mila cicli di ricarica, contro invece i 1500 barra 2000 delle batterie agli ioni di litio tradizionali. Capite ragazzi che è una bella differenza e potrebbe essere veramente questo il futuro. Per ottenere questi tempi di ricarica così brevi, le nuove batterie assorbiranno una potenza di circa 481 kilowatt a 855 volt, 562 ampere, quando la batteria è già carica, diciamo circa 80%. La potenza in media invece di ricarica è addirittura superiore, 526 kilowatt. Vale a dire che Aeon 5 C6 sarà in grado di incamerare 100 chilometri di autonomia ogni 2 minuti. Ok ragazzi, provate ad immaginare, per creare colonine di ricarica di questo tipo ci vorrà un impianto di alcuni megawatt, o magari nei prossimi anni addirittura gigawatt, che ovviamente rischieranno di mandare in tilt la letta elettrica. Quindi si suppone già ora che le future stazioni di ricarica ultrarapide avranno bisogno del supporto di buffer con accumuli statici, quindi altre batterie. Ma ancora nessuno ha parlato di costi, secondo voi cosa potrebbe costare una batteria di questo genere? Migliaia di euro o centinaia di migliaia? Il produttore ci ha rassicurato, ha comunicato infatti di aver risolto il costo del grafene, che attualmente è di centinaia di dollari al grammo. L'azienda cinese sostiene di aver messo a punto una tecnologia al grafene tridimensionale che ridurrebbe i costi a un decimo, quindi una decina di dollari invece che un centinaio. Se tutto verrà confermato e a settembre veramente comincerà la produzione, ci troveremo di fronte ad una rivoluzione epocale per il mondo della mobilità elettrica. Non vedo l'ora. E voi? Ma ritorniamo con i piedi per terra, parliamo di incentivi, perché è notizia confermata di qualche giorno fa che l'eco bonus statale, quello che vi dà diritto ad un incentivo di 10.000 euro per l'acquisto di un'auto a zero emissioni, è stato rifinanziato con 350 milioni di euro ed è stato riaperto dal 2 agosto. Quindi cosa aspettate? Andate velocissimi dal vostro concessionario di fiducia per acquistare una nuova auto elettrica. E a proposito di velocità, vi ricordate che la scorsa settimana vi ho parlato di Tesla che ha lanciato la sua plate sul Nürburgring per battere il record di Taycan? Beh, ancora non è accaduto, però sul quarto di miglio, sulla drag strip americana, i due modelli si sono sfidati all'ultimo elettrone. Da un lato abbiamo la Porsche Taycan Turbo S con batteria al 100% e dall'altra parte Model S Plaid con batteria al 90%. Taycan ha chiuso il quarto di miglio in 10,379 secondi ad una velocità di 209 km orari, mentre Plaid in 9,344 secondi ad una velocità di 243 km orari. Niente male. Non so se si tratti di un risultato da record per la Plaid o per la Porsche Taycan, ma se vogliamo parlare di veri record non possiamo non citare la nuova Kona, che ha nuovamente fatto segnare un record di percorrenza, ben 790 km con una sola carica. Ha solcato le strade per circa 15 ore ininterrottamente con una velocità media di 52 km orari ed un consumo di 82 wattore al km. Non male Kona. E brava Hyundai. E non male neanche la nuova app di Tesla. Cosa ne dite? Qualche giorno fa è trappalato un video riguardante questa nuova interfaccia che a quanto pare verrà aggiornata tra qualche settimana. A voi piace? A me non dispiace. Parliamo ora un po' di retrofit, un argomento che mi piace particolarmente perché ho sempre amato le auto un po' d'epoca e ne sono sempre stato affascinato. Bene, chi di voi si ricorda la Citroën DS del 1971 mitica, vero? Beh, un'azienda di nome Electrogenic l'ha convertita in elettrica con una batteria da 49 barra 70 kWh ed un'autonomia reale pari a 225 o 320 km. Spero sinceramente un giorno di portarvi qualche contenuto retrofit sul canale e a tal proposito vi domando, conoscete aziende che lo fanno in Italia? Potrebbe essere bello andare a vedere una procedura magari di retrofit da vicino e magari fare anche uno o più video. E a proposito di retrofit, anche la famosa FIA 500 spiaggina è stata convertita in elettrico. Gli hanno montato una batteria da 9 kWh ed un motore da 13 kW che gli permettono di arrivare ad una velocità di 85 km orari con un'autonomia di 120 km. Tutto molto rispettabile direi. E a forza di pensare al passato mi sono venuti in mente i bei tempi e di bei tempi si trattava quando giravamo con il cosiddetto Gito, la Renault 5. Ecco, da un po' la casa francese sta lavorando ad un modello rivisto in chiave moderna 100% elettrico. La produrre in serie che verrà commercializzato nel fine 2025 barra inizio 2026 e da ultimo in descrizione di Renault rinnoverà il mercato come la piccola Zoe ha fatto e continuerà a fare ancora per tanti anni. E continuiamo a parlare di futuro e lo facciamo con Mercedes questa volta perché recentemente la casa della Stella ha postato alcune foto di EQE. Sarà una nuova berlina del segmento E totalmente elettrica e a dirla tutta sono state pubblicate anche altre due foto, una rappresentante gli interni molto simili a quelli di EQS ed un'altra dove invece si possono vedere sette auto, quattro con una livrea camouflage e una EQC ed una EQA che già conosciamo e una poi sotto un telo nero. Secondo voi di cosa si tratta? E sempre Mercedes ha recentemente confermato il lancio della Vision EQXX nel 2022, avrà un'autonomia di 1000 km ed un consumo medio sotto 105 wattora al km. Staremo a vedere, io glielo auguro. E giusto per finire la giornata in bellezza vi parlo di Audi che a sorpresa ha annunciato che il 10 agosto, quindi questo prossimo martedì, nel nuovo Design Studio presenterà una nuova Sky Sphere. Dai pochissimi frame che abbiamo potuto vedere sembra essere super futuristica e quindi molto interessante, almeno per me. Cari elettronauti, cosa posso dirvi? L'estate avanza anche se piove sempre, almeno qui al nord. Io non andrò in vacanza, quindi continuerò a tenervi compagnia con i miei video ogni martedì e venerdì e con le news della settimana la domenica mattina. Se volete pormi qualche domanda lo potete fare qui sotto nei commenti oppure nella consueta live domenicale alle 21. Grazie di cuore a tutti, come sempre, e a presto!